Un ringraziamento agli organizzatori per l'invito, fa molto piacere essere qui. Come Andrea Arcidiacono sa, io ho seguito, seguo da anni le attività del Centro Ricerca e Consumo di Suolo, sia per quanto riguarda il mio impegno politico-amministrativo, anche per motivi di carattere professionali, quindi abbiamo avuto modo di discutere, di chiacchierare e io di scrivere dei temi legati al consumo di suolo a livello nazionale in occasione della presentazione dei vari rapporti che nel corso degli anni avete avuto modo di presentare. Io comincio facendo agli organizzatori, a ISPRA da un lato e al CRCS dall'altro i miei complimenti per il lavoro tecnico-scientifico che nel corso degli anni avete sviluppato, avete saputo sviluppare, che consente di avere finalmente un apparato adeguato a studiare il fenomeno, ma dall'altro il vostro lavoro tecnico-scientifico è riuscito a imporsi nel dibattito culturale, tecnico, politico e istituzionale. Oggi il tema del consumo di suolo è al centro dell'agenda politica, poi con tutte le contraddizioni e con tutte le diverse interpretazioni, ma il tema oggi anche in virtù di questo lavoro di analisi tecnico-scientifica si è imposto nel dibattito culturale, nel dibattito politico e nel dibattito tecnico-istituzionale. Poi le traduzioni sono un'altra cosa, è fatto bene Andrea a sottolineare questo aspetto di come il tema viene poi declinato alle diverse scale di pianificazione. Mi fa piacere essere qui perché come consigliere delegato della città metropolitana io ho alcune deleghe dall'ottobre scorso che riguardano la pianificazione territoriale, l'ambiente e i parchi, perché mi consente di dire alcune cose rispetto a ciò che stiamo facendo, nonostante la difficilissima situazione finanziaria in cui versa città metropolitana, di Milano in particolare. Nei giorni scorsi avrete letto delle notizie un po' preoccupanti rispetto al futuro di città metropolitana, posso rassicurare tutti, noi siamo qui, è superato il 30 giugno, ma ci siamo ancora, siamo aperti, funzioniamo, lavoriamo, in attesa però che da un lato vi sia un provvedimento che sposti un po' in là i termini per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci di previsione del 2017, quindi attendiamo il decreto annunciato fra due giorni da parte del Governo di proroga della data di scadenza dei bilanci, ma soprattutto siamo in attesa di un provvedimento strutturale da parte del Governo che consenta alle città metropolitane di vivere in autonomia rispetto al tema finanziario. Oggi noi siamo in una situazione paradossale in cui siamo di fronte ad una situazione di finanza inversa. Le città metropolitane di Milano, ma anche le altre città metropolitane, trasferiscono risorse al centro a Roma e ricevono sempre meno quattrini da Roma stessa in occasione dei trasferimenti annuali. Questo è il paradosso della situazione. È una finanza inversa, un meccanismo perverso. Noi siamo in una difficile situazione finanziaria non tanto in virtù di una cattiva gestione da parte degli amministratori, ma in virtù di questo meccanismo paradossale che impedisce alla città metropolitana e alla nostra in particolare di decollare. Questo è il riferimento rispetto alle notizie che nei giorni scorsi avrete avuto modo di leggere e di ascoltare. Ma nonostante questa difficoltà strutturale della possibilità finanziaria, un po' di cose si stanno facendo. Un po' di cose le stiamo facendo concretamente. Per esempio, io ho la delega all'ambiente e mi occupo anche di cave. Stiamo predisponendo un piano cave che è in fortissima riduzione rispetto alle previsioni passate, di un piano cave decennale che è scaduto nel 2016, che è stato prorogato fino per tre anni da Regione Lombardia. E questo è il primo dato, cioè un piano cave che sarà basato sulla fortissima riduzione delle previsioni di escavazione. Quindi questo è un primo elemento di politica, di politica ambientale che noi mettiamo in campo, che è un tema che ha a che fare con quello di cui stiamo discutendo quest'oggi. Stiamo lavorando sul tema dei parchi. Stiamo lavorando attorno al tema della costruzione del parco metropolitano, in virtù della legge regionale 28 dello scorso anno, che riorganizza il sistema dell'area protetta in Regione Lombardia. E qui la nostra proposta, che poi verificheremo come Regione risponderà rispetto alle proposte che i due parchi regionali hanno avanzato e che Città Metropolitana ha avanzato, di costituzione di un unico sistema di gestione delle aree protette nell'area metropolitana milanese, vedremo cosa ci dirà Regione, però noi siamo impegnati a innovare il sistema delle aree protette nel nostro territorio, nel territorio della Città Metropolitana. Stiamo lavorando attorno a temi nuovi che hanno a che fare con l'argomento di oggi. Temi nuovi in Città Metropolitana di Milano, ma credo anche nelle città metropolitane a livello nazionale. Stiamo lavorando attorno al tema dei cambiamenti climatici, alle questioni legate ai piani di mitigazione da un lato e di adattamento dall'altro. Abbiamo chiesto a Fondazione Cariplo di un finanziamento attorno a un progetto, vedremo prossimamente se questo nostro progetto avrà un esito positivo. Sono cose utili non tanto per Città Metropolitana in quanto tale, ma per i comuni, per attrezzare i comuni rispetto alle nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono ormai da tempo. Stiamo lavorando anche, nelle prossime settimane, stiamo lavorando per predisporre un progetto live proprio sul tema dei cambiamenti climatici. Lo stiamo facendo come Città Metropolitana, con Ambiente Italia, con Lega Ambiente, con il gruppo CAP. Insomma, le cose, nonostante le difficoltà finanziarie, si fanno, si costruiscono delle politiche. Da ultimo accenno al tema territoriale di cui mi occupo. Finalmente, questa mattina, proprio prima di arrivare qui, ho firmato il decreto che dà avvio al procedimento di redazione del piano territoriale metropolitano. Forse avrebbe potuto essere avviato qualche tempo fa, ma io ripeto la delega dall'ottobre scorso. Ma comunque, un piano territoriale che dovrà tener conto dello strumento di pianificazione della Città Metropolitana, ereditato dalla provincia di Milano, dovrà tener conto delle poche cose che la Del Rio consegna alle Città Metropolitane per quanto riguarda la pianificazione territoriale metropolitana e dovrà tener conto, purtroppo, della pessima legge regionale 31 del 2014. Quindi noi dovremmo fare i conti con questo peso legato ad una legge regionale che ha un titolo di un certo tipo, ma che ha poi altri contenuti che sono decisamente opposti al titolo stesso. Ecco, questo è quello che stiamo facendo. Un piano territoriale incardinato su alcuni elementi fondamentali, tra questi anche per la prima volta l'avvio di una collaborazione fra il Comune di Milano da un lato, che ha le prese con la variante allo strumento urbanistico, al piano di governo del territorio del Comune stesso, e la collaborazione con il Comune di Milano alle prese con la variante e Città Metropolitana che ha dato avvio al piano territoriale metropolitano. E non è una cosa così scontata. Cioè che due enti, Milano forte e importante, Città Metropolitana con tutti i suoi problemi, però iniziano a dialogare sul tema della pianificazione. Quindi questo è un dato, credo, politicamente rilevante. Mi spiace che non ci sia qui Maram. avrebbe potuto confermare che stiamo predisponendo un protocollo d'intesa che consenta di far viaggiare i due strumenti di pianificazione parallelamente e che possano questi strumenti tra di loro dialogare. Chiudo su, diciamo, le linee guida del piano territoriale metropolitano su cui vogliamo lavorare per impostare il piano territoriale metropolitano. Il primo, la riduzione del consumo di suolo nell'area metropolitana milanese, fino ad arrivare all'azzeramento delle previsioni. Ovvio che questo tema ha a che fare con il meccanismo della legge 31, che non è un meccanismo semplice da smontare, anzi dovremo fare i conti con quei contenuti, con quei problemi che la legge porta con sé. L'altro caposaldo è la rigenerazione urbana. Quindi rigenerazione urbana da un lato e riduzione del consumo di suolo dall'altro. Questi sono i due elementi fondamentali del piano territoriale metropolitano che stiamo avviando. L'altro elemento riguarda l'attenzione che dovremmo avere al tema delle periferie. Città metropolitana ha situazioni problematiche dal punto di vista, in alcuni centri, dal punto di vista del rapporto con le periferie e quindi anche questo è un tema che farà parte del processo di pianificazione. La quarta questione riguarda le politiche di mitigazione e di adattamento di uno strumento di pianificazione di scala sovracomunale. Quindi tutto il tema dei cambiamenti climatici entra a far parte, entrerà a far parte delle proposte di pianificazione della città metropolitana. E infine, tutto ciò si regge, tutti questi contenuti si reggono se il processo sarà un processo partecipato dal punto di vista degli attori locali, dei vari territori. Quindi immaginiamo un processo non verticistico, se vogliamo mettere in campo delle politiche virtuose, evidentemente anche i processi di partecipazione devono essere tali e quindi un processo di partecipazione che scaturisca non solo dall'ascolto, dal confronto con gli attori locali, ma che scaturisca anche da un lavoro con le zone omogenee, che sono le forme organizzative che città metropolitana si è data da ormai da qualche tempo. Questi sono gli elementi su cui stiamo lavorando, quindi situazione difficile dal punto di vista finanziario, estremamente difficile, che ha bisogno di un intervento strutturale, definitivo da parte del Governo e dall'altro però, come vedete, ci sono alcune cose che si stanno facendo, nel segno che sta sotto il titolo di questa iniziativa, di questa vostra presentazione. Ecco, questo è il lavoro che stiamo facendo e mi auguro che tra qualche tempo avremo modo anche di discuterne e di presentare i primi risultati. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a Pietro Mezzi. Credo che nel gruppo delle sfide progettuali del Piano Territoriale Metropolitano, che tiene anche insieme queste cose, il disegno delle infrastrutture ambientali, delle reti verdi e blu è uno degli elementi su cui credo che lavorerete, insomma, anche conoscendoti come sfida importante, capace anche di tenere poi gli altri strumenti di pianificazione più di dettaglio. Segnalo che da domani, proprio sul tema della città metropolitana, l'Istituto Nazionale Urbanistica, qui c'è il professor Mocia che è il curatore, ha fatto, ha attivato un festival della città metropolitana che si svolgerà a Napoli proprio da domani fino al 7 luglio, dove molte di queste questioni verranno certamente trattate e discusse. Adesso ringrazio i relatori di questa parte introduttiva, un breve cambio di tavolo e chiedo già a Luca Montanarella di JRC e a Damiano Di Simine di Legambiente di venire al tavolo, ma chiederei già anche a Michele Munafò e Silvia Ronchi di cominciare a prendere posto al tavolo per le presentazioni poi dei due rapporti ISPRA e CRCS.